Come è stata la partita difficile? 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 Come è stato unito, è molto forte. Nonostante qualche difficoltà passata in questi mesi è sempre rimasto solido. Forse è questo che ci ha portato adesso a giocarci la finale di Coppa e a sperare ancora di arrivare a giocarci le ultime partite insieme alle prime per cercare anche di andare a vincere questo campionato. Come è stata la partita difficile? 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 Come è stata la partita difficile?